L'anno scolastico in corso si deve misurare con la sfida Covid, facendo tesoro di quanto imparato sul campo dall'inizio della pandemia. Abbiamo raggiunto i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle scuole nissene. Su sette dirigenti delle scuole medie, elementari e materne ne abbiamo raggiunti sei. Ci hanno riferito che la situazione varia da istituto ad istituto. Si va da istituti in cui si hanno zero classi in quarantena, quelli dove si raggiunge la media da due a massimo quattro classi nell'arco dei mesi, ma con numeri di soggetti contagiati che di rado supera il singolo caso per classe e quando ciò accade vi è spesso la coincidenza dell'appartenenza dei soggetti allo stesso nucleo familiare. Circa gli istituti delle scuole superiori di secondo grado, su sei dirigenti, ne abbiamo raggiunti cinque. In questo caso la popolazione studentesca attualmente partecipa alle lezioni al 50% in DAD e il 50% in presenza. Ciò ha condotto a quattro istituti con zero classi in quarantena, mentre il quinto istituto ha attualmente due classi in quarantena. Anche in questo caso il numero di soggetti contagiati di rado supera il singolo caso per classe. Il metodo che si attua è quello ispirato alla via inglese, al back to school. Nello specifico si chiamano bubbles, le classi bolle. Devono essere isolate durante la permanenza a scuola e in caso di contagio l'intera bolle sarà messa sotto osservazione o in isolamento, permettendo alle altre di continuare la propria attività. I dirigenti scolastici hanno riferito che con questo metodo c'è una certa forma di contenimento del contagio. Intanto è stata massiccia l'adesione alla campagna vaccinale del corpo docente. Sul vaccino hanno espresso una voce unanime, è strumento utile, su cui contiamo molto.